ciao benvenuti a cazzeggio catadiotico ciao benvenuti ad un altro episodio di cazzeggio catadiotico in questo episodio parleremo di due argomenti molto energetici e per questa ragione ho cambiato la sigla introduttiva con il relativo jingle due argomenti saranno trattati in due puntate separate nella prima parte parleremo del rischio della levata di cartago mentre nella seconda parte della puntata parleremo della razionalizzazione del terzo segreto di fai auguro a tutti un buon ascolto ciao ben trovati nella seconda parte di questo lungo episodio che ho dovuto dividere in due parti perché altrimenti era troppo lungo in questa parte andremo a parlare della razionalizzazione del terzo segreto di fatima allora ci sono una serie di bloggate sul blog di antonio socci molto ben indicizzate da google sul topic terzo segreto di fatima che vi invito ad andare a leggere con attenzione le pagine e sono intitolate le bloggate sono intitolate relativo a il nuovo papa e il terzo segreto di fatima novità apocalittiche da fatima l'ultimo mistero il silenzio delle suore ma chi tace e infine la verità fatima bene ne trattasse cognizione causa stenersi dilettanti ignoranti sciocchi allora quello che viene fuori in sintesi da queste bloggate è che in buona sostanza esiste una parte del terzo segreto di fatima che è stato ancora trattenuto ed è occultato da chiesa cattolica infatti considerando le decisioni del 1959 del 1965 sul messaggio di fatima che avrebbe dovuto essere diffuso nel 1960 considerando da quanto è stato scoperto dall'ottima ricerca di antonio socci dove evidenzia nella sua praticamente nessuno bloggate che la document della documentazione mancante è noto che si tratta di uno scritto su un foglio unico è noto che dovrebbe essere intorno ai 25 righe di contenuto nota la dimensione della busta di carta che lo conteneva è noto in quale giorno fu scritto il contenuto di tale mistero anzi leggendo spiegazione del mistero è noto in quale giorno la busta è partita in quale giorno è giunta a roma è noto dove è stato conservato lo scritto mancante in tutto questo tempo è noto quando i vari papi hanno letto questo testo sia questa leggenda è noto che nota diciamo la frase iniziale anche del suo contenuto se ne conosce probabilmente o se ne diciamo se intuisce probabilmente anche i contenuti c'è da chiedersi perché ancora non sia stato rivelato nel complesso diciamo è evidente che quanto scrive socci quanto tutti i fatimologi hanno obiettivamente ragione da vendere ragione ragionevolmente certo che la chiesa cattolica abbia inquattato vari documenti scritti di pugno da sua lucia sul terzo segreto di fatima riguardo al terzo segreto di fatima però c'è anche un dipinto che è stato disegnato proprio dalla mano di sua lucia e che è la raffigurazione del terzo segreto di fatima si resume quindi che gli scritti inerenti lesegesi della terza visione sono ovviamente mancanti il contenuto del testo riguarda forse molto probabilmente la questione dell'apostasia veniamo quindi ad una proposta di razionalizzazione del terzo segreto di fatima osservato in prospettiva storica quando i segreti di fatima furono proferiti nel 1917 e poi trascritti nel 1944 la sua lucia tutti nel mondo nei decenni 1950 e 1960 temevano che la guerra fredda deflagrasse in un olocausto nucleare tra patto di varzavia contro la nato causando la fine della vita sulla terra in 30 minuti con un conseguente inverno nucleare che si sarebbe spalmato sull'emisfero boreale tuttavia nelle profezie di fatima non c'è traccia di tali eventi perché adesso lo si può ben dire non ci fu nessun confronto diretto nel ventesimo secolo tra patto di varzavia e nato l'urz collassò nel 1989 1991 ed evidentemente l'evento della detonazione della guerra fredda in olocausto nucleare forse non era un evento probabile e forse non era neppure possibile nonostante la logica umana abbia ritenuto l'esatto contrario per lungo tempo nel 1917 e nel 1944 nessuno sospettava o poteva ancora sapere dell'esistenza della bomba demografica africana nel ventunesimo secolo o del cambiamento climatico nonché delle immigrazioni apocalittiche che si profilano all'orizzonte del ventunesimo secolo razionalmente oggi possiamo dire che il rischio di una terza guerra mondiale in asia e le guerre puniche due nel mediterraneo sono i due più grandi eventi funesti che oscurrono il ventunesimo secolo il quale molto probabilmente non porterà pace e prosperità al genere umano l'apostasia è molto probabilmente contenuta dentro all'evento delle guerre puniche due ed è questo il terzo grande segreto di fatima è probabile che per questa ragione la chiesa cattolica abbia occultato il materiale mancante ossia il contesto della postasia della chiesa cattolica romana che risiede in roma e il cui destino verrà condiviso anche dagli italiani che sono nella penisola italiana chiesa cattolica nega sistematicamente la necessità e l'utilità di una politica di controllo delle nascite in africa chiesa cattolica nega sistematicamente che i problemi del cambiamento climatico in futuro si legheranno in modo insolubile alla questione della sovrappopolazione in africa c'è da chiedersi come mai chiesa cattolica negli la evidenza scientifica che tutti i tutte le ricerche scientifiche danno praticamente per una situazione di fatto che inizierà a manifestarsi sicuramente molto prima del 2050 per evitare che scoppi una guerra di solito sarebbe utile studiarne prima le cause di detonazione e poi reagire in modo proattivo disinnescando a priori le cause di detonazione ossia bloccando l'innesco degli scenari dell'esplosione della detonazione di una guerra per evitare la guerra è anche vero che uno si deve preparare dicevano i romani se vuoi la pace prepara la guerra dando la forza alla deterrenza soprattutto se uno vuole la pace e l'arte della guerra purtroppo la deve conoscere molto bene altrimenti non si potrà agire proattivamente per disabilitare le cause di detonazione quindi non si capisce l'utilità del negare le cause di detonazione del mediterraneo prima del 2050 storicamente purtroppo l'italia va da ricordare moltissimi flip flop politici la sua naturale tendenza ad andare in pezzi sotto stress esterni italia è una penisola in mezzo al mediterraneo a poche ore di navigazione dall'africa del nord est salpando dall'africa si può raccontare anche su potenti correnti marine verso l'italia specie quando l'oceano atlantico salirà di un metro sul livello del mar mediterraneo e da giubilterra irromperà acqua dell'atlantico che traslerà traslerà l'attuale corrente ad est di superficie oggi più un nodo a valori più elevati di quanto ovviamente lo siano oggi io non ritengo che gli italiani del 2030 del decennio 2030 2040 e 2050 gradiranno le pulizie etniche che detoneranno nelle guerre punite due del ventunesimo secolo così come da tradizione storico bellica sub-sahariana si profila purtroppo all'orizzonte una guerra feroce per ripopolamento e migrazione violenta una contestuale cruenta lotta per le risorse scarse in un contesto sovrappopolato e flagellato dagli effetti del cambiamento climatico dentro ad un mondo che nel ventunesimo secolo sarà in sovrappopolazione e violentemente competitivo quello che attende il mediterraneo e l'europa del zub sono guerre asimmetriche in territorio altamente urbanizzato scontri prevalentemente convenzionali con pulizie etniche da parte degli aggressor la durata dell'intero processo bellico sarà ben superiore a quei fatidici 30 minuti la dottrina cattolica definisce il martirio come un modello una lieta novella un dono supremo da offrire a dio ora la sostituzione etnica degli italiani nella gioia del martirio teologicamente per chiesa cattolica sarà come il sacrificio di isacco e di cristo in croce un dono supremo offerto a dio per lenire le piaghe dei 1,2 miliardi di sud saeriani in sovrappopolazione e piegati dal cambiamento climatico è probabilmente questo il contenuto della leggenda del terzo segreto di fatima grazie a tutti